Stavo dicendo la turchese che c'è anche in bianco o grigio, sono tre colori con il formato lì, non è concava, è più svasata, dentro è naturale, mentre le altre sono abbinate di due colori, come vi facevo vedere prima, adesso scusate la rotazione, vado di là, questo è il nostro negozio. Allora, poi abbiamo il set degli antipasti, fatto da questa strutturina sotto, dove c'è la divisione e le eventuali tre ciotoline che noi abbiniamo così, molto carino anche, da usare e da regalare nei vari colori naturalmente. Le gelato nei vari colori così riassumiamo, poi abbiamo le tazzine che avete preso, le tazzine svasate, anche loro sono molto carine perché il caffè primo giro, poi tè, cappuccino, tè, una mousse, il pinzimonio. Quelle da tè, che sono una via di mezzo, tra che cosa? Tra queste qui, che sono da colazione, vanno abbinate al piatto dessert che è del postotavola, scusate prendere il piatto, tipo questo, che è un jolly, che supporta tutte le ciotole e ciotoline della serie. Poi ci sono i bicchieri, che sono questi qui, in sei colori, le brocche, le brocche panciote che sono questa meraviglia, ma ci sono anche le caraffe che credo in questo momento...